Che cosa vuol dire sentirsi imprigionati nel proprio peccato? Che cosa vuol dire quando noi diciamo siamo tutti peccatori, possiamo tutti sbagliare? È vero, tutti possiamo sbagliare e tutti siamo peccatori. Quando il cristiano si presenta con la faccia del santino, no? Non è autentico, perché il cristiano si presenta con la faccia del peccatore, ma attenzione, amato da Dio. Io ho detto più volte, ma lo dico anche a chi spesso mi chiede se sono una persona felice, io dico sono un peccatore, felicissimo perché amato da Dio e perdonato da Dio tutti i giorni. E vorrei che questa frase fosse incisa sulla mia tomba, se avrò una tomba. Ma sono felice non del mio peccato, sono felice di quelle braccia che mi accorgono, che mi perdonano sempre, ogni giorno. E allora giustamente, come dice Fra Emiliano Antenucci, la misericordia di Dio non è una bacchetta magica, che tutto pulisce, tutto perdona. La misericordia di Dio ha bisogno del nostro Amen, ha bisogno della nostra collaborazione. La nostra collaborazione è pentimento e poi impegno pentirsi e impegnarsi a una nuova vita. Questo è il senso della misericordia di Dio. E parlando di questo, Fra Emiliano racconta di una volta quando ha incontrato un uomo che da tanti anni non parlava con un sacerdote. E dice Fra Emiliano che questo uomo gli fece l'elenco lunghissimo di tutto quello che aveva fatto. Aveva rubato, era stato adulto, aveva bestemmiato, si era ubriacato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi gli ha fatto l'elenco di tutti i suoi peccati. E Fra Emiliano dice, io gli ho detto queste parole, dice fermati, fermati, ma ricordati sempre che sei figlio di Dio. Lui è scoppiato a piangere e si è confessato benissimo, promettendo di cambiare totalmente vita. Che bello! Una persona che ti scarica tutti i tuoi peccati e tu gli ricordi che lui è figlio di Dio. Ma io ho ammazzato, tu sei figlio di Dio. Io ho rubato, tu sei figlio di Dio. Ho tradito, sei figlio di Dio. Ma ti devi pentire, devi cambiare vita, ti devi impegnare a restituire il maltolto. Non solo perché il peccato che io commetto offende Dio. Dio è lì in croce. Direi che non è tanto prioritario questo fatto che noi offendiamo Dio, ma che noi offendiamo soprattutto la nostra dignità, la dignità di figli di Dio, che è la nostra felicità, che il peccato ci rattrista. Certo è vero che il peccato offende Dio. Ma Dio non si offende perché è un'offesa fatta a lui, no, perché noi scegliamo il male. Perché è come un padre che vede il figlio sbagliare, che al figlio gli ha detto questa è la strada per essere felice e vede che il figlio va da qualche altra parte. Allora questa è l'offesa che diamo a Dio, che è un'offesa nel senso che lo addoloriamo. Ma noi offendiamo noi stessi con il peccato. Noi offendiamo la nostra dignità di figli di Dio, di uomini e donne di questo mondo. Vi aspetto domani. Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!